buongiorno a tutti ragazzuoli benvenuto a questo nuovo e velocissimo video sono qui per farvi vedere come sbloccare questi bellissimi doppi picconi che trovate in game ragazzuoli sono della skin sorana della skin segreta sorana e adesso vi faccio vedere come si trova andiamo tra poco a vederlo in game ma prima vi voglio far leggere la sfida da eseguire che dice trova in inglese io la traduco velocemente trova il piccone nascosto nella schermatica rinviamento del council rising è quella skin che è uscita in uno shop qualche giorno fa mentre indossate l'outfit sorana quindi mi raccomando indossate questo skin questo stile questa skin che si sbloccherà dopo aver raccolto tutte le lettere da scritta fortnite vi ricordo che queste due skin trovate gli stili di questa skin gli altri due stili segreti in un altro video che ho già caricato sul canale adesso se andiamo a vedere quella schermata di caricamento che dice la missione se voi guardate qua in basso a destra adesso ve lo faccio in maniera zoomata così lo vedete bene eccolo qua se guardate qua vi dice in questo televisore vi da delle coordinate g1 g2 h1 e h2 ora le andiamo a vedere in game dove si trova con esattezza eccoci qua ritrovati in game allora se apriamo la mappa di fortnite le coordinate g7 h7 g8 h8 l'incrocio è esattamente qua ok siete a sud est della montagna diciamo in poche parole quella più alta di fortnite qua esattamente qua se noi guardiamo bene là c'è la montagna quella un po più piccola questa è quella più grossa là il piccone si troverà a fianco a questa bandierina io vi ricordo equipaggiate l'outfit di sorana perché se no non lo potrete vedere io ho registrato il video prima dell'uscita delle sfide quindi fidatevi che è qui però comunque è in questo esatto punto vi faccio vedere bene adesso vado un po più in alto così lo vedete meglio se magari non siete riusciti a vederlo bene non so se ci siete avete capito dove mi trovo qui c'è la funivia che collega più o meno le due montagne quella là la è in seconda più alta montagna io sono su quella più alta a fianco a quella bandierina rossa si trova il piccone ora salgo in cima questa è la bandierina del punto più alto della montagna vi faccio vedere bene bene dove siamo allora qui è dove ho sbloccato proprio questo outfit qui c'è la stazione meteorologica dove abbiamo fatto già un paio di sfide là giù c'è l'ago la brughiere e il piccone è la sotto la sotto ragazzuoli ve lo faccio vedere ancora bene dalla mappa brughiere lago questa montagna più alto esattamente qua in questo preciso punto laggiù dove vedete i due barilozzi di bombole di ossigeno e la bandierina che ormai è molto piccola laggiù vi lascio in fondo al video gli altri video degli sfide comunque c'è una playlist caricata sul canale con tutti i video delle sfide sia degli stili che del dorso decorativo e inoltre sono presenti anche le sfide delle della settimana di oggi quindi dell'ultima settimana per sbloccare la lettera e ma penso che se siete arrivati a sbloccare questo outfit di sorana l'avrete già fatta quindi ragazzuoli vi saluto vi ricordo codice creator lollo du 97 da inserire nello shop vi aspetto in live per i regali dallo shop e buona continuazione a tutti ciao 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 ciao